82 anni di emozioni, ma Venezia e Padova evidentemente non si sono ancora stancate, così il derby di ieri finisce nell'archivio dei più spettacolari. Due gol d'autore, il pubblico delle grandi occasioni, l'agonismo puro, degno di partite da altri tempi, e poi la correttezza, il derby fila liscio come l'olio, sia in campo che sugli spalti, e ci dà appuntamento alla prossima puntata. Chi si aspettava un cocktail divertente ed entusiasmante è stato quindi accontentato, e finiscono felici e contenti anche dei vecchi e materazzi. Un pareggio così va sempre bene, la zona che scotta resta a distanza, il gioco c'è e fa ben sperare per il futuro, che Padova e Venezia disegnano con i colori della speranza. Ma chi pretende di smuovere la classifica con la bacchetta magica e di tirarsi fuori in tre giornate, forse ha capito poco di questo campionato. Noi probabilmente l'occasione idonea per tirarci fuori da questa situazione l'avremo nei prossimi sei impegni, quando giocheremo quattro volte in casa e due fuori, contro concorrenti dirette. Senta, l'abbiamo visto parlare con i tifosi in occasione di un fuorigioco del Venezia, con il sorriso sulle labbra, forse è l'immagine più bella di questo derby. Ma io vorrei dire questo, a 50 anni, a 51, bisogna anche sapere stromatizzare, una partita di calcio, una partita di calcio, era affrontata con il sorriso sulle labbra, poi le battute così si dicono, si ricevono, si danno, per cui era veramente uno scambio di opinioni, scherzoso, anche perché era appena finito il carnevale, però io direi che questo clima andrebbe portato sempre avanti, perché il calcio è anche un divertimento, oltre che diciamo uno sport, è una cosa seria, ma un divertimento. Arancio, Neroverdi e Bianco Scudati si salutano con due certezze, la prima abita in laguna e si chiama Claudio Bellucci, il gol rifilato all'amico Zenga è il numero 10 di una stagione da incorniciare, l'ennesima prodezza che è servita a vincere l'atteso duello a distanza con il gemello dell'Under 21, Lucarelli, che più di metà derby l'ha visto in panchina, un'esclusione che ha così lanciato in copertina un talento di nome De Franceschi, bloccato per 20 giorni da un problema al cuore e oggi asso in più nella manica di Materazzi. Mi fa piacere perché è un ragazzo che merita e solo un mese fa sembrava destinato a non giocare più al calcio, sicuramente un ragazzo che merita ha dimostrato a parte il gol di giocare bene e mi fa piacere per lui, qui né a Pada né nella vita non regala niente a nessuno, è questa dimostrazione che con sacrificio si può arrivare a certi livelli. Io chiarisco questo, Lucarelli è tre mesi che gioca nel campionato di Serie B, gioca in nazionale, fa i viaggi avanti e indietro per l'Europa o per il mondo dove è andata, sicuramente questo momento non può essere più in pante come lo era due mesi fa quando faceva 8-9 gol da settimana nel presente. Per un Lucarelli che sbuffa, un Padova che cresce, allegri in campiera di regia vale uno sull'altro i miliardi spesi, ma l'esperimento con l'Antignotti è tutto da rivedere. Sorride anche il Venezia, il carattere non manca, la reazione c'è stata, il finale arrembante è sintomo di una condizione fisica tutt'altro che precaria. Insomma pochi rimpianti e molte certezze per un derby che ci lascia due squadre in salute e così il derby delle deluse diventa d'incanto il derby della riscossa, annunciata a gran voce dal Sant'Eno. La paura fa novanta così sia Walter De Vecchi che Giuseppe Materazzi adottano una tattica prudenziale mandando in campo due squadre che vadano soprattutto a non scoprirsi. Al botto di De Franceschi che sblocca il risultato risponde Bellucci poco dopo con una prudezza personale. Un pareggio tutto sommato giusto a giudizio dei due tecnici. Direi che è un risultato fondamentalmente giusto, c'è stato un primo tempo equilibrato, una ripresa in cui noi abbiamo sofferto per una ventina di minuti, dopo siamo venuti fuori, le due più grosse occasioni da gol le abbiamo avute noi. Direi che il risultato è anche giusto, anche se al centro del secondo tempo abbiamo avuto una superiorità territoriale giocando direi abbastanza bene, magari concretizzando poco, abbiamo avuto una grande occasione in Montrone sul passaggio di Lucarelli, dove ha sfiorato il pallone davanti alla porta e un gol annullato. Dominato sul piano tecnico il Venezia si scatena soltanto nel finale e sfiora il raddoppio in due occasioni, prima Brioschi salva su una linea e poi un diagonale di pedone lambisce il montante. Torniamo a collegarci con Bari. Franco.